Guardate davanti a Regiorgio, con il bandiatore e con tutto, ci chiedete di battere le mani perché avrete le maggiore, avrete le gruppe mani e ci chiedete di partecipare ancora a voi e cerchete di essere contenti perché siete voi che avete nunca lasciato. Ancora ci sono uscite le peggioelle, partite le mani e avete la mani che è tutta l'alegria e ancora la vostra, ma se ci vuoi ce l'ha lì, ce l'ha lì e ci vede ancora l'altro, se io non ce l'ha l'alegrio, l'altro non ce l'ha lì, lui fa ci chiedere di stare per la sua rammettura, non è la tenda e allora dobbiamo fare le mani. e io faccio le mani e gli esperti, non è l'alegria e le mani, qui l'ha lì, la...